Salviamo i lecci di piazza Marcolini. Con questo slogan ambientalisti e residenti si erano dati appuntamento sabato scorso per lanciare l'ennesimo appello al comune di Fano, quello di non abbattere nove lecci, di cui sei, presenti da oltre 70 anni. Siamo favorevoli alla ristrutturazione della piazza, hanno ribadito con il megafono in mano, ma questi alberi, definiti monumenti della natura, devono essere salvaguardati per il loro valore paesaggistico ambientale e per i servizi ecosistemici che offrono gratuitamente. A portare avanti questa battaglia anche la lupus infabula. Claudio, per voi significherebbe creare un danno economico, sociale e ambientale. Per quale motivo? La relazione che abbiamo commissionato a un tecnico nostro di fiducia dice sostanzialmente che questi alberi nei prossimi 15 anni possono produrre benefici a livello economico per 68 mila euro, a fronte di costi di manutenzione per 15 mila euro. Per cui c'è una differenza evidente tra quello che ancora gli alberi possono dare e quello che è il loro costo di mantenimento e di gestione. Una gestione che richiede una gestione sia normale, ordinaria, cioè potature, contenimenti, ma anche una gestione magari di valutazione della stabilità di tanto in quanto secondo lo stato degli alberi. Ricordiamo che gli alberi forniscono questi benefici che sono l'assobbimento di ossigeno, l'immagazzinamento del carbonio, il trattenimento dell'umidità quando piove, riduzione di isola di calore, sono la casa per gli animali e tanto altro. Quindi queste cose sono di condizioni di danni naturali, queste cose non vengono mai considerate, si guarda solo l'aspetto estetico che comunque è importante perché sono alberi monumentali, però bisogna valutare anche tutto il resto che è un valore economico. Il Comune ha annunciato uno studio per valutare le condizioni dei lecci e voi su questo già da tempo avete organizzato una raccolta firme? Noi quando sette mesi fa il Comune ha presentato un progetto di abbattimento di questi alberi abbiamo raccolto 350 firme anche grazie all'aiuto del Conte Lupo Bracci e abbiamo inviato insieme alle firme questa perizia tecnica. La perizia dice cose contrarie rispetto a quello che dice la perizia del tecnico comunale e anche quello che c'è scritto nella relazione. Le leggi spiralate, che appunto dite spiralate o strozzanti, non sono compromettenti per la stabilità dell'albero, ma d'altronde anche la relazione del tecnico comunale si conclude dicendo non sussistono motivi di urgenza che ne motivino il loro abbattimento. Quindi noi crediamo che un progetto debba essere cambiato perché come prevede la legge forestale le piante protette, soprattutto queste qui, di questa natura, di questa dimensione, possono essere abbattute solo se non esistono soluzioni alternative. In questo caso esistono, bisogna semplicemente lavorare sull'esistente, fare la pavimentazione, tutto quel che si vuole, ma lasciando le piante perché queste sono un valore monumentale. Sono come i palazzi che ci circondano e quindi vanno preservati perché hanno appunto una loro funzione che ancora può durare molto nel tempo. Eventualmente valuterete anche una diffida? Beh, adesso daremo del materiale che abbiamo raccolto a un nostro avvocato che valuterà se esistono motivi legali per diffidare il Comune dal procedere con questo progetto. Proprio per questa ragione che le piante sono protette e sono secolari.